oh no ma che stai fa' ma sto accomodati qui ma che stai accomodati fermo fermate mannaggia no eh perché domenica è pasqua anche stanno venendo domenica lo sai eh eh beh dovrà venire il prete a benedì prima di pasqua oh sta sentì se ci viene c'ha da venire uno per me perché sennò non c'è voglio eh ma guarda ho chiamato ho chiamato un don pazzesco un prete pazzesco dai ma chi ha chiamato non ti preoccupare leva tutti sti cianfrusaie dai arriva un amico mio si chiama don dante a me dentro sta roba me la penso come? mannaggia il c***o levati le costano e la sta fermo no di questa sotto no 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 chi è l' microfono don dante è venuto a benedì quel furfante venga venga io l'altro zicco allora eh grazie grazie venga 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 su ma chi c***o ti chiamai? Don Don guarda che sia che è un po' lo stronzo da dono una martella d'antate Don Dante dai ma chi è Dario? chi? si è Don Dante dai stai tranquillo andai vedo da me se mi faccio il capo eh ma andrà benissimo prego prego eh felicità felicità sono venuto a benedire questa casa aspetta Don Dante si metta un attimo qua si metta vicino da un abbraccio Don Dante mi ha portato un libro di redenzione dello spirito se lo legga guardi benedizione Pasquale vedi ma tu hai chiamato un totto? ma perchè? sia contento ma come perchè? felice perchè scusate? questo è questo che io avevo più alla cimiterra ne fa due nooo me ne dico come me nooo me ne dico di c***o ma modere il termine per favore aspetti Don Dante ma saluta Don Dante piacere Don Dante della parrocchia di Cucurano piacere guarda che ti ha portato io ho portato questo libro guardi Pasqua è sempre altissima ma ma da sciacchi di c***o questa è una fregatura compralo per compro per compro ma se lei lo compra abbinato c'è un premio ma senti dimmi una cosa tu fai il frate o il rivenditore? ma c'è un premio del mio collega francese qua ma che collega? ehi Don Perignone nooo la Don Perignone te la compro ma che perignone? compralo ma questa è una fregatura a me capito no? compra questo libro è vino vero ma che fono? compra questo vino là che è? compra oh dove l'ho martellata là? no la violenza no violenza no la violenza no non facciamo violenza per favore questa è una fregatura l'amico l'amico ma è Don Perignone che la portata? no lui vuol vendere quel per tirare un faccio di libri ma Sassi vabbè allora il libro non lo vuole comprare non lo vuole comprare quindi togliamo tutto lo riprenda anche se Pasqua è altissima si che c'è uno che beve lo riprenda tutto riprenda riprenda anche la postiglia ah il libro non l'ha voluto eh ma adesso la bendizione bisogna prendere alzita in piedi non l'ho voluto vai prendiamo la bendizione ma anche perchè ultimamente c'ha stocchio qua che è un po' si si ho visto è un po' nebbiato 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 dalla rabbia è accecato è accecato ma il nostro signore ci penserà benedicus vomis impotentis Deus peccatoribus percora 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 ma che c***o ma che c***o è un po' nebbiato ma che c***o ma che c***o ma che c***o benedifici 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 no no si ma altro no eh perciò ascolta la benedizione ce l'ha fatta un po' il mio dovere rocambolesca adesso vi saluto vi ringrazio anche se ho rischiato la vita ma se fate vedere che sono una persona per bene mi dite cosa fa io la donazione te la fa uguale ma grazie per la parrocchia perché sono una persona per bene ma la parrocchia cocurano ringrazia ma ringrazia prenda la donazione e se ne va di affan c*****o va bene va bene le vie del signore sono anche finite però arrivederci mi raccomando comportatevi bene sempre prima te ne aveva meglio vedrai che adesso il vedere e qua non guarda no ma che hai fatto il vedere e c'è un cosco che ti dicono ma hai dato i soldi falsi che miseria satana allora è vero che sei infurfante te lo dice don Dante che sei infurfante i soldi falsi mi è pioppato ma andrai all'inferno satana sprofonderai negli abissi di fuoco i soldi falsi